Se in camera vostra manca uno stereo, oppure semplicemente se dovete dare una festa e volete far diventare la serata top con un casino di musica, allora potreste prendere in considerazione questa, la cassa di Tronsmart, la versione aggiornata della T6, si chiama T6 Plus. Bella pesante, ma c'è un perché. Tutto quello che pesa ha il suo perché. Perché c'è roba buona all'interno, 40 Watt, tante funzioni, legge qualsiasi tipo di periferica, cavo house, porta USB, chiavette, micro SD, anche funzione power bank. E allora, beh, la recensione sarà molto interessante, ci sono tante cose da dire su questa cassa di Tronsmart, la nuova versione della T6 Plus. Ed eccolo qua lo speaker portatile Tronsmart, la novità T6 Plus Upgraded Edition, quindi un remake di una cassa che ho già provato l'anno scorso. Adesso torna a nuova vita, torna in versione aggiornata. Vi faccio vedere quindi cosa comprende la confezione. Mi piace anche che Tronsmart ci faccia vedere tutto quello che c'è all'interno. Vedete, molto bello, molto carino. Il packaging di Tronsmart è sempre molto curato e a provo questa cosa. Eccola, la cassa. Una cassa che viene posta sempre verticalmente. Qui all'interno della confezione dobbiamo scavare, dobbiamo andare sotto l'alloggio della cassa per trovare semplicemente cavetto house. Quindi maschio maschio, collegamento a un computer, a un pc, a un televisore oppure semplicemente a uno smartphone. Il cavetto per la ricarica che è una porta USB e tipo C e poi un bel po' di manualistica. Ma tanto vi spiegherò tutto io in questa recensione. Quindi questo è quello che troviamo all'interno della scatola di questa cassa T6 Plus di Tronsmart. Iniziamo con un rivestimento plastificato ma è gommato, quindi è piacevolissimo da tenere in mano. È una cassa resistente all'acqua, quindi può prendere qualche schizzo, non dovrebbe danneggiarsi. Ha due speaker, quindi uno e due. Ogni driver è da 20 Watt, quindi una cassa da 40 Watt complessivi. Bella pesante, 750 i suoi grammi. Abbiamo una parte verticale che ci fa vedere un po' di comandi, quindi torno indietro, vado avanti, cambio l'equalizzatore, quindi vado a spulciare un po' tra le varie modalità di ascolto. La funzione Memory va a cambiare la tipologia di ingresso e il pulsante di accensione. Vado ad accenderle e noterete un LED che si illumina di blu, un piccolo suono e da lì potrete andare a fare la connessione con il vostro dispositivo. Mi immagino che sarà uno smartphone che riprodurrà la vostra musica. Abbiamo sopra scritto Tronsmart e abbiamo anche di conseguenza questo volume che va dalla destra alla sinistra ad aumentare la potenza. Qui in basso abbiamo una cassa che rimbomba questo piccolo subwoofer. E per finire abbiamo anche uno sportellino bello protetto anche perché deve resistere agli schizzi d'acqua. Guardate quante cose troviamo. Troviamo la porta di ricarica, ovviamente troviamo l'ingresso AUX, troviamo l'ingresso per le schedine, per le micro SD. Quindi se avete una schedina piena di musica la mettete dentro e questo diventa uno stereo, non avete bisogno di smartphone, connessioni strane. E qui per finire una porta USB. Perché? Perché questa porta può leggere sia le chiavette, quindi pendrive, quindi anche lì se avete una chiavetta piena di musica la potrete usare per riprodurla su questa cassa. Ma non solo. Questa T6 Plus svolge anche la funzione di Power Bank. Infatti abbiamo una batteria gigantesca da 6600 mAh, una batteria doppia, quindi sono due batterie da 3300. Quindi potrete ricaricare qualsiasi dispositivo portando l'energia fuori da questa T6 Plus. Se andiamo a tenere premuto questo pulsante qua, mentre siamo connessi ad uno smartphone, vado a riattivare l'assistente vocale. Quindi se avete le mani occupate, se non volete prendere in mano lo smartphone, fate una pressione con un gomito, con un pugno. Qua sopra andate comodamente ad attivare l'assistente vocale. Mentre per quanto riguarda l'equalizzazione abbiamo tre tipi di livelli. Abbiamo il default, quindi la cassa suona in modo predefinito. Abbiamo i bassi profondi e poi la modalità detta 3D. A proposito di audio 3D, sappiate che questa Tronsmart T6 Plus può essere abbinata in maniera True Wireless via Bluetooth a una gemella. Quindi due casse del genere, messe magari ai lati di una stanza, diametralmente opposte, riescono a dialogare fra loro e faranno uscire un audio. Che sembrerà quindi tutto surround, tutto a 360 gradi. E per finire ragazzi, segnalo due chicche, il chip NFC e la presenza del microfono di ingresso voce. Quindi tecnicamente siete comodi comodi ad ascoltare la vostra musica, arriva una telefonata, potrete rispondere cliccando sulla cassa e poi parlare comodamente senza usare il telefono. Ovviamente il microfono non è di quelli di top categoria, non è fatta la cassa per telefonare, ma è una funzione in più che possiamo usare. E la domanda ve la faccio lo stesso, appassionati, secondo voi quanto abbiamo speso. Per portarsi a casa questa cassa, la T6 Plus, versione aggiornata, servono 59 euro. Dove si trova? La trovate su Geek Buying, vi lascerò il link sotto in descrizione. I prezzi sono bassi su questo sito, quindi questa cassa ha il suo perché. Lì la trovate anche su Amazon, ma non è la versione aggiornata, quindi se dovete acquistarla, se vi è piaciuta, se ci volete fare un pensierino, magari andate direttamente sul sito che vi linkerò qua sotto. Detto questo, io vi aspetto fra i commenti, fatemi sapere se l'avete, magari l'avete già a casa vostra e vi sta piacendo tanto. Se l'acquisterete, insomma, vi aspetto fra i commenti sotto al video. Se siete appassionati dello shopping online, di segnalo il solito gruppo, offerte Smart Italia, pieno di sconti, codici, promozioni, offerte dell'ultimo secondo, insomma, date un'occhiata e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella questa cassa, ciao!